cari amici impattati benvenuti al GCN italia show numero 170 Giorgione ieri Alan vi ha parlato dei numeri di Vanderpool nello show racing oggi invece vediamo i numeri del fiandri inteso come corso e come evento iniziamo lo show lead story d'esta mosceria Giorgione c'è stato nostro spettatore che ci ha scritto Stefano Caligione ha scritto quando fa quella lead story è urticante quindi non volevo urtare la sensibilità di Stefano oggi un lead story pacato poi magari scrivete anche voi ma sai che non mi dà fastidio come tu sei lamentato Giorgione a volte anche per te ero urticante eri urticante quando eravamo in lockdown che mi urlavi nelle cuffie lì era molto fastidioso quindi posso fare lead story ma non di qua per in avanti vai Giorgione iniziamo la puntata Giro delle Fiandre grande spettacolo dopo due anni di lockdown e chiusure impossibilità di andare sul percorso in massa negli ultimi due anni appunto quest'anno 2022 si è corso Giro delle Fiandre vecchia maniera con un sacco di gente sul pubblico si stimano 750 mila spettatori minimo qualcuno ha azzardato a dire anche qualcosa in più del milione quindi pensate voi a movimento che c'è intorno a questa corsa partiamo subito dal dato più grande più importante l'università di Anversa ha stimato che il Giro delle Fiandre porta a un giro economico attorno ai 30 40 milioni di euro per un giorno c'è per una singola edizione anche perché le persone sul percorso appunto sono 750 mila circa consumano un sacco di cibo e soprattutto di liquidi immaginate voi quali e le città di partenza e arrivo Anversa e Odenar proprio per avere la possibilità di ospitare tutti questi tifosi quindi avere un introito per le attività commerciali del luogo danno 400 mila euro a testa all'organizzazione del Giro delle Fiandre ovviamente nell'indotto globale va aggiunto anche quello che spendono le squadre l'ospitalità entourage che segue la corsa che spende soldi negli hotel locali ovviamente sì che vengono però pagate l'organizzazione che prende soldi dalle città quindi alla fine un giro di soldi un giro di soldi importante tra l'altro il giro di soldi enorme c'è anche grazie alla gara cicloturistica che viene fatta il giorno prima dove corridori ciclisti da tutto il mondo cicloturisti da tutto il mondo possono percorrere lo stesso percorso della della gara dei pro con momenti molto imbarazzanti ho visto un video pubblicato da Van Der Poel di momenti in salita gente che casca si ribaltano anche perché è molto difficile riuscire a stare in equilibrio quando si trovi un muro di gente che è già scesa montata dalla bici e quindi la maggior parte dei muri se non tutti quando parti molto indietro si fa a piedi però sì comunque sul percorso del fianco è una passeggiata sui che o diciamo una cosa no tra l'altro interessante leggere le cifre allora si spendono 50 euro per il percorso da 72 chilometri 60 per quello da 136 80 quello da 177 e 90 per quello più lungo da 217 comunque si vede che è uno sport per masochisti il ciclismo perché tu più chilometri fai più devi pagare quindi proprio è l'essenza del ciclismo questo ovviamente per ogni anziché darti un premio che ne fai tanti no paghi di più per ogni distanza comunque ci sono anche dei ristori che sono tantissimi tantissimi ristori Giorgione io conosco persone che hanno fatto la ciclo turistica al fiandre e si sono sfondati ovviamente non puoi esagerare anche nel bere birra nel rilassarti troppo perché il percorso è molto esigente anche sotto quello che sotto l'aspetto della concentrazione sì se vuoi proprio se su strade belle larghe aperte dritte devi stare molto attento se vuoi sfondarti di duvel cioccolato e waffle invece puoi andare direttamente alla partenza transversa si stima ci fossero 100.000 persone o a Odenar ce ne erano 120.000 a quel punto lì sì immagino la festa un giorno potremmo andare così in veste unofficial video gli inglesi hanno fatto un video su questo evento tra l'altro tu hai parlato dei vari introiti per quello che riguardano le città di partenza arrivo c'è anche un business enorme per quello che riguarda il settore vip cioè c'è un servizio che ti permette di seguire la corsa cioè fare i vari tagli del percorso e vedere più passaggi con persone che ti portano con dei van in giro e questa è una delle cose più belle del giro delle fiandre ovvero che essendo un giro proprio nel vero senso della parola cioè si sta sempre in uno spazio molto ristretto si possono fare dei tagli sul percorso e vedere la gara in più punti oppure anche restando nello stesso posto se il vecchio cuore montò il patterback si può vedere la corsa tre volte quindi questo è un grosso vantaggio che corse come appunto la sanremo magari non hanno pensa che il settore vip quello che gira con i van e quello magari che sta nei posti più belli sulle tribune più vicino ai corridori comunque genera un business da 2 a 3 milioni di euro e per non parlare poi delle sponsorizzazioni quindi vari sponsor parte nella corsa che sommati portano a un business di 5 ai 5 6 milioni di euro è quello che si sente dire ogni tanto sentito parlare anche gregorio e magrini in telecronaca dicevano se è giusto o no far pagare il biglietto per vedere il ciclismo le gare di ciclismo che moltissimi sport si paga il biglietto per entrare uno stadio in un palazzetto il ciclismo è su strada quindi in un posto libero per tutti ed è sempre stato gratuito stava chiedendo se aveva un senso se si dà veramente qualcosa in più però a livello di spettacolo d'immagine o altro giustificare il prezzo di un biglietto viene già in alcune discipline come ciclo cross o come alcune kermesse in belgio soprattutto dove tirano dei veri e propri teloni attorno alla città cioè fanno una città chiusa blindata con dei teloni verdi alti due metri e mezzo dove non puoi vedere dentro fanno il circuitino a pagamento diventa un vero e proprio stadio alla fine si quello si ha il suo posto poi la possibilità di muoverti anche però a mio avviso la stessa cosa non potrebbe funzionare per tutte le altre corse bisogna essere sinceri ammettere può funzionare su alcune corse se la corsa di per sé da qualcosa in più anche l'organizzazione riesce a dare qualcosa in più a livello anche solo di emozioni e senza cose materiali cioè l'essere lì cose che hanno con questo fascino particolare perché poi devi far caso anche al territorio al belgio è una zona che veramente ricca di storia di passione viscerale no da vedere penso che non ci siano paragoni cioè da vedere come corsa da vedere per uno spettatore giro delle fiandre penso che sia over the top su qualsiasi cosa forse tranne qualche edizione ecco mondiale in belgio comunque l'anno scorso forse può essere però secondo me no ancora no giro delle fiandre irraggiungibile perché ad esempio la mia corse preferita la ruby però o da fare da vedere in televisione da vedere sul posto non è lo stesso io ho avuto la fortuna di correre il giro delle fiandre per sei volte e ti posso garantire che anche da corridori da corridore vive delle emozioni che sono particolari perché nonostante tu sei a tutta impegnato a testa bassa percepisci questa energia che ti trasmette il pubblico e quindi è un qualcosa che va oltre anche la gara ciclistica in sé va anche oltre alla parigi rubè perché la parigi rubè ci sono questi tratti in pavè molto duri a volte anche pericolosi dove passi in maniera molto rapida veloce quindi non riesce a goderti l'energia del pubblico che hai attorno per involvere il fango l'unica esperienza che ho avuto simile ho fatto alla ruby due volte la direttante ma quando l'ho fatta da junior era il giorno stesso dei prof e si passava sui pezzi di pavè con tutto il pubblico dei prof quindi ha avuto pensa a 17 anni che emozione deve essere una roba del genere però è vero non vedevo niente cioè avevo la vista stretta così per tenere quello davanti puoi mettere su un muro più piano ha più tempo di sentire l'odore della salamella se è pronto non è ancora da togliere la girare senti un po' di tutto una volta non ho fatto con una sberla sul culo sì a me era una ragazza no non credo purtroppo no però vabbè comunque per concludere all'istoria mi piacerebbe chiedere agli impattati se preferiscono correre le gare in stile italiano quindi delle gare di fatto dei professionisti portate negli amatori con tanta competizione agonismo puro o più passeggiate sui look come fanno sui muri delle fiandre nel senso più cicloturisti che ciclopasseggio vedendo un po' i posti che percorreranno i professionisti il giorno dopo oppure scriveteci se avete partecipato alla cicloturistica delle fiandre come è stata l'esperienza scrivetemi nei commenti cycling inspiration o ispirazione ciclistica vedete voi la sfida delle foto caricate sull'app di GCN vediamo chi vince i premi questa settimana allora terzo posto Diff82 ogni volta che passo da questa rotonda a Misano per andare a fare la panoramica mi viene voglia di spingere di più ma per questa volta mi sono fermato per immortalare la Pantera col Ducatone allora non abbiamo fatto i pignoli sulla perivella però perchè non è un parco bici perchè c'è dietro una 998 io avevo la Kajiva Mito a 16 anni con questa linea qui che bomberone Mikuni 35 andava a 180 all'ora bomberone Giorgione vabbè andiamo al secondo posto e qua si beve Alessia 90 ritrovata borraccia nei pressi del collio cercasi proprietario questo è un caso di teletrasporto viaggio spazio temporale con il gigantismo ingrandimento della borraccia lanciata sembra quasi aggiunta con photoshop è talmente così si fuori luogo fuori luogo completamente particolare comunque si e tra l'altro non lo diciamo poi lo diremo dopo nella nella cycle inspiration no scusate nella maranga nella parco bici no alla fine la caption challenge non lanciamo più le borracce ma arrivano anche se non le lanciamo non è che se lo facciamo sempre per motivi che conoscete bene andiamo al primo posto andiamo al primo posto Ema Festa iniziano le belle giornate e si decide di andare al mare per raggiungerlo si supera la barriera dei 220 km andate e ritorno due anni e mezzo fa se fosse venuto qualcuno a dirmi andiamo a metà ponto in bici a 32 km orari avrei risposto tu sei impazzito invece eccoli qua massima del giorno le autovetture fanno 20 km con un litro io ne faccio 40 con una crostatina tanta roba Ema tanta roba complimenti davvero d'ispirazione il messaggio soprattutto 40 con una crostatina siamo a livelli di glucagone alti tu si tu puoi tranquillamente sostenere questi consumi mi è piaciuta un po' anche questa descrizione andiamo con il parco bici l'autore è un codice a barre un codice fiscale vi presento la mia Yvette arrivata un anno fa e che ora mi accompagna tutti i giorni nella mia vita da studente fuori sede questa è una look 965 del 2017 due race ruote Bontrager Bontrager si si Bontrager Bontrager bravo si direi tutto a posto bene tutto a posto in ordine andiamo con la vignetta di Andrea Gandolfo come il Maranga vinse la sfida con Zavorna da 18 kg per quello fatto come Campaner disco intervertebrale del Maranga che è partito e ha picchiato Giorgio ha bucato la maglia e è passato sotto il zaino e mi si è infilato in un incisivo e così hai vinto la sfida perché si è visto una debacle mia il disco intervertebrale ha rischiato comunque quel giorno questo è il video di una settimana fa invece quello che è uscito domenica scorsa della sfida ne parleremo dopo ne parliamo dopo passate nei commenti G sia in Italia Tech o tecnologia vedete voi Davide Marchi che differenza c'è di allenamento tra un corridore da classiche di un giorno e uno da giro di 2-3 settimane cosa fa un po' più e meno dell'altro? ma allora prendiamo corridori molto specializzati perché se vediamo uno come può gacere le vince entrambe quindi di fatto si allena per tutto e vince comunque prendiamo il Chris Froome di turno che era l'ultimo corridore proprio da sole corsi a tappe principalmente si allenano molto di più sulla cronometro rispetto a un corridore di corsi di un giorno tanti che da un altro cronometro non si allenano su accelerazioni massimali scatti non fanno tutta quella parte di cambi di ritmo violenti per arrivo in volata ristretta l'esplosività anche perché hanno tutto l'interesse a trasformare le fibre intermedie muscolari in fibre lente quindi resistenti rispetto a che tenerle come fibre veloci per aumentare ancora di più i valori aerobici mentre un corridore da classic ovviamente non ha bisogno di cronometro no il contrasto allena molto sui cambi di ritmo si allena molto sul giorno secco quindi magari fa un giorno di carico molto molto intenso e poi recupera mentre il corridore di corsi a tappe magari fa due, tre, quattro giorni di fila di carico intenso generalmente tre per simulare poi quello che avviene in corso mentre se devi puntare a una classica alla fine l'obiettivo è fare in un giorno solo 7000 calorie a tutta e poi ovviamente recupera Vanderpool non so se nei suoi programmi mette le triplette quindi tre giorni di carico non lo so come si allena però dalla mia esperienza quello che vedo io se hai una gara secca di un giorno non ha molto senso fare tre giorni di fila di carico ossia non in un periodo lontano da le gare per migliorare una qualche qualità specifica che ti manca poi c'è da dire che chi si prepara per i grandi giri fa tantissimi giorni di altura sì Vanderpool di altura vera e propria quello che so ne fa proprio zero quasi zero sì anche quello aiuta sì essere un corridore che punta a vincere i corsi tre settimane comporta carichi di allenamento anche più lunghi nel tempo rispetto a corridori che puntano a classiche di un giorno quindi sì diciamo che è un po' più complicato da allenare come caratteristica parliamo adesso del Global Bike Festival mercoledì 6 aprile domani ci sarà una pedalata su Zwift con Greipelone Andrea Greipel e Oliver nostro collega di GCN quindi chi partecipa a questa pedalata ha la possibilità poi di chattare anche perché è una pedalata non è una gara si va con calma ma soprattutto ha la possibilità di essere sorteggiato per partecipare al GCN Bike Festival che va la Salbak gratuitamente nello stesso hotel di GCN nello stesso hotel dei presentatori quindi insomma è un'occasione d'oro quindi almeno provarci non guasta secondo me ma GCN è sempre generoso e dà un sacco di premi tra cui anche questo wow rival a chi scriverà il commento più interessante sotto il post nella pagina GCN Events vale anche scrivere in italiano eh illustrando quale potrebbe essere la giornata ideale in un GCN Bike Festival cioè non vale dire bere dall'inizio alla sera dalla mattina alla sera se quello è il suo ti svegli e bevi mi sveglio colazione con greipelone a chi mangia più uova così capi tutta la giornata ognuno si fa il suo programmino lo mette sotto c'è il greipelone ragazzi sono soddisfazione è un'occasione i tuoi commenti andiamo con la canonica lettura di alcuni vostri commenti iniziando con autoctonus 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 è un indigeno io con la bici questo è interessante questo commento io con la bici ho fatto 75 km in 4 anni o uno che ha fatto meno chilometri di me ho trovato uno che ha fatto incredibile avete già qualcosa in comune non ho nessun interesse per le biciclette o sulle competizioni in bici ma nonostante questo guardo tutti i vostri video senza sapere il perché cos'ho che non va e vorrei sapere se sono l'unico è grave secondo te Giorgione cioè lui è preoccupato no lui è molto preoccupato la mette giù in tono quasi drammatico vabbè ma anch'io seguo la formula 1 e non ho mai guidato una formula 1 ma si ma ci sta non trilassati va benissimo il fatto che non ti piacciono proprio le bici le competizioni in bici è particolare e ha fatto 75 km l'ha usato per fare la spesa un'arapena gelato probabilmente meno di te effettivamente però se l'ha fatto in un botto solo è già superiore a me sotto tanti punti di vista comunque non ti preoccupare stai sereno continua a guardare i nostri video rilassati e continuiamo a farti compagnia andiamo con Paolo Cattaneo allora la borraccia è per la caption challenge esiste ancora? ah vedi? si è detto non la lanciamo più come facciamo una volta non facciamo partire il viaggio spazio-temporale perché una volta è successo una cosa per motivi logistici è successo una roba particolare che avrete visto in un video che è uscito ogni shoot rubiamo due borracce da qua devo fornirlo in poco vai con Erwin 67 la prossima volta il Giro d'Italia lo facciamo partire da Okinawa con il Maranga Senpai che dà il via alla gara potrei fare lo starter d'eccezione da Okinawa cioè ma è lì terra di conquista sì che lì logisticamente è facile trovato è facilissimo proprio Okinawa ci si arriva in un attimo Francesco Cielo cosa ne pensate delle leve ruotate all'interno? devo esprimermi? guarda io sono per il no 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 mi piace un Giorgione è una di quelle cose che le fa uno che vince e tutti la copiano e venne pull e dopo l'hanno seguito a ruota quindi mi sembra un po' una moda lui sicuramente si trova bene magari chi segue questa moda si troverà bene non lo so a me non piace c'è sempre il fatto di lanciare le mode in gruppo vabbè a me non piace vai con Andrea Netto quest'anno con la bimba di tre mesi ho ripreso a correre tardi e con pochi chilometri ma la bici e il vestiario sono quelli dell'anno scorso non ho cambiato di una virgola neanche la geometria della bici perché delle sei uscite sono rientrato sempre con un forte dolore all'osso sacro e un discreto dolore alla pianta dei piedi mai provati prima è solo la panza cresciuta la vecchiaia che avanza o alto grazie mi pc beh la panza se è cresciuta notevolmente può dare fastidio a pedalare dipende quanto è cresciuta la panza soprattutto per il discorso dell'osso sacro perché il coccige immagino non è una cosa che tocca sulla sella cioè per toccarla devi fare una retroversione notevole di bacino e la panza porta proprio a questo per evitare di toccare con le cosce sulla panza ruoti il bacino all'indietro e quindi vai a toccare un po' hai trovato questo problema di ragione non su di me non ancora però si succede quindi le persone che hai seguito pianta dei piedi invece è boh strano o se non consumate parecchio le tacchette iniziano a muoversi o Marco Bonaccini andrei a farti fare un fitting insomma controllare tutto ciao ragazzi perché non ho fatto una puntata su una sfida in bici in salita dove la stessa persona utilizza una bici in carbonio di ultima generazione nuovo di pack e poi la stessa persona utilizza una bici in carbonio di 10-15 anni fa tutto questo per vedere la differenza tra le due se il carbonio nel corso degli anni perde le proprie caratteristiche ma allora io ci ho pensato a fare un test del genere l'unico modo per farlo un test che abbia un senso da questo punto di vista è usare i nostri misuratori di potenza UAU sul pedale e andare a ripescare io ho ancora a casa una ruota power tap con un misuratore di potenza sul mozzo quindi prendere i dati di entrambi i sensori quindi uno sui pedali uno sul mozzo e quindi di mezzo c'è proprio il telaio della bicicletta e vedere che delta c'è tra i due valori in una volata o in un pezzo in salita fatto forte poi in un salita fatto forte sui pedali interessante però ho paura che sia veramente minima cioè potrebbe esserci magari uno o due watt di differenza sul passo e una decina non lo so però potremmo provare che quella differenza si vedrebbe magari su un tragitto più lungo cioè devi sommare poi cioè uno prova secca magari c'è poco però poi se sì e poi bisogna sempre vedere se riesce a riprodurre due prove massimali della stessa intensità nella stessa giornata ci proveremo forse Milko Colosi perché la quasi totalità dei ciclisti professionisti indossa scarpette di colore bianco perché proprio per un discorso di esclusività secondo me perché sanno che loro le cose le ricevono in grande quantità gratuitamente non tutti non se le devono lavare non tutti e quindi sfoggiano il bianco e poi anche perché se fa caldo caldo Rigoberto Uran mi ha sempre detto che lui preferiva le scarpette bianche perché quando buttava giù l'occhio sembrava di vedere le gambe che giravano meglio invece se aveva le scarpe nere aveva questo limite mentale che la gamba era impastata ci sono grossi problemi psicologici nel mondo dei professionisti ve lo diciamo mi sembrava avere la gamba impastata con le scarpe nere assolutamente sì ti giuro Giorgio mi disse così una volta vabbè Roberto Becchio mai da qualche anno la tendenza è usare occhiali sempre più grandi ma perché ma come mai si manca il come è usare occhiali sempre più grandi che sembrano maschere da sci moda molte risposte tre risposte di fila moda come mai maranga non lo so è moda comunque ragazzi oltre si cerca un significato va bene la lente larga ti protegge di più l'occhio ok però ci sono delle visiere proprio veramente siamo dei parabrezza quindi secondo me è moda comunque andiamo a Girolamo la zizzerà da questo video quindi questo parla del video che è uscito domenica della sfida superbike versus cancello da questo video abbiamo imparato che lo zoncolan in Graziella è stato il Vietnam personale del maranga certi traumi non si superano mai complimenti per il bellissimo video ragazzi sei una sindrome post-traumatica da Graziella il mio Vietnam vero e proprio è stato la race across Italy quello è stato peggio dello zoncolan in Graziella ragazzi non potete immaginare però anche lo zoncolan in Graziella però se passa l'idea che una una sfida una cosa di due ore quando ci hai messo a fare lo zoncolan due ore due ore di sofferenza agli impattati sembra più impattante della race across Italy è assurda sta cosa due ore ragazzi due ore di sì di sofferenza di dolori ma neanche più di tanto pensate a 36 ore ragazzi di fila Eddie Zanenga ragazzi ho visto il video sempre quello di domenica il video ha letto mentre mia moglie dormiva attenzione allo scoppio del copertone del Giorgio non ho retto e sono scoppiato a ride ovviamente si è svegliata ha mandato affanculo me e cito e quei due lì che sono pirla peggio di te grazie ho riso per un'altra mezz'ora Pies in realtà le piacete un casino meno male perché qui c'è la rischia anche il rapporto di coppia non puoi guardare i nostri video poi questi video particolari che sai ma poi quando si va a letto non si guarda dal telefono dai si fa le coccoline sotto il piumone fa ancora freddo evita mentre la moglie dorme di guardare questi video particolari dove sai che prima o poi c'è il rischio di scoppiare a ridere comunque è scoppiato un copertone casino comunque che ridere quel povero copertone comunque ce l'hanno chiesto in tanti abbiamo parlato il bici indietro abbiamo pagato il copertone la seconda invece l'abbiamo portata più disfatta ancora della prima la seconda si era allentata la serie sterza c'era la ruota la ruota dietro si imbarcata la ruota giorgione ma voi non sapete il titolo del quinto dello scopio della gomma però che noi l'abbiamo registrato prima la frenata solo che non era venuto bene mi ricordo cosa era successo ma erano riusciti a frenare tutto ok senza scoppio rifacciamola rifacciamo a bomba ancora abbiamo voluto rifare esploso e finito ma non potete anche tener buona la prima che adesso dobbiamo andare 100 km a cambiare sta bicicletta a benidorme a fare tutto il resto del video i commenti sono finiti giorgioni mi raccomando continuate a scriverci noi cercheremo sempre di leggerne il più possibile sondaggio della settimana la settimana scorsa vi abbiamo chiesto da quale città straniera vorresti che partisse il giro 2023 allora sull'app di GCN hanno risposto Kiev nella speranza che la guerra finisca il prima possibile sarebbe bello sarebbe bello se partisse da Kiev oggi sembra utopico vuol dire che tutto sarebbe tornato alla normalità oggi è utopia diciamo che è un commento di speranza comunque oggi hanno scritto Parigi per dare un segnale al Tour de France si segnale che sono talmente ricchi che gli partiamo pure col giro in casa non mi sembra facciamo a casa vostra non è una grande no vabbè ci sono un po' spizzarriti diciamo così nuovo sondaggio Giorgione qual è la classica monumento che ti piacerebbe correre cioè non vedere correre c'è l'esperienza proprio a racing ma non da amatore da pro ma da pro facciamo fantasticando ti svegli se è un pro cosa ti piacerebbe correre Milano Sanremo Giro delle Fiandre Parigi Roubaix Liegi Boston Liegi in Lombardia puoi sceglierne una via col sondaggio Caption Challenge la sfida pacata per non destabilizzare i nostri fan più sensibili che magari provano fastidio nel sentire la mia voce che squilla quindi Caption Challenge la sfida pacata un po' di sparazzo Maranga vai Giorgione quella era la foto che aveva messo aveva messo la foto di Seneschal in realtà a vincere Cosimo Damiano e Giorgio Mangino sono quattro nomi che dice ricezze ho mal di pancia quello della vuoi ricezze di pancia e Seneschal spingi forte così come sto facendo io tanto con le mascherine non si sente niente ma non ho capito mascherine ma perché? spingi forte per mollare ma la mascherina? la mascherina perché hanno tutte le mascherine ma non è un pannolino è una mascherina Giorgione ho capito ma non sentono niente l'odore non si sente capito non si sente l'odore del peto hai capito? sta passando i rutti comunque vabbè andiamo invece alla foto di questa settimana con Van Der Poel che ha appena vinto la Duas d'Orlanderen c'è Roxanne la sua fidanzata che lo guarda mentre lui lì è stravolto quando finisce le corse da tutto è distrutto devastato che dà spettacolo anche nel post arrivo e Roxanne guarda ride gli viene da ridere a guardarlo così devastato e quindi non ce la fa a vincere normalmente non ce la fa a vincere normalmente ma ti ricordi all'Amstel qualche anno fa come è arrivato in che situazione bellissimo quel finale o la tirina adriatti con il panino come è arrivato è uno che si dà spettacolo sempre ragazzi lui secondo me in un'altra vita è nato Marangoni cosa gli sta dicendo cosa gli sta dicendo Roxanne ragazzi sfogatevi via con la sfida cari impattati siamo arrivati alla conclusione di questo centosettantesimo G-Sanitalia Show se vi è piaciuto come sempre un bel like commentate qui sotto rispondete ai sondaggi caricate le foto sulla Cycling Inspiration fate tutto quello che volete arrivederci al prossimo show le prossime puntate ciao ciao così ciao 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 ciao